Il derby Non è possibile ragazzi però 20.000 mi piace 20.000, proviamo 20.000 E vi portiamo la reaction con la Juve Direttamente sempre da San Siro Ovviamente ragazzi il canale di Yass in descrizione Quindi passateci Detto questo ci becchiamo a partiti in corso Forza mia, dai! Vince Vincerai, non ti lasceremo mai Ale, 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 Miladale Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai Ale, 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 Miladale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti